Ci troviamo presso l'Energy Center di Torino e qui accanto a me il professor Alfonso Capozzoli. Bene Alfonso, io vorrei chiederle quali sono le opportunità offerte dalla digitalizzazione nel processo di transizione energetica? Beh direi che la grande opportunità che oggi ci offre il processo di digitalizzazione che stiamo vivendo è soprattutto l'opportunità relativa alla disponibilità di dati di monitoraggio energetico e ambientale che riflettono poi la prestazione reale del sistema e dei sistemi energetici che servono l'edificio. Ebbene queste fonti di dati rappresentano una sorgente preziosissima di informazione soprattutto quando questi dati diventano l'input per dei modelli che si basano su intelligenza artificiale o in generale su analitica dei dati attraverso cui poter sviluppare dei servizi di gestione energetica sia informativi sia servizi che sono finalizzati all'ottimizzazione energetica per mezzo di controlli predittivi e che alla fine si è dimostrato riescono a garantire a fronte di risparmi energetici rilevanti tempi di ritorno dell'investimento molto bassi. Quindi credo che sia questo l'elemento principale che sento di voler sottolineare in questa sede rispetto agli effetti del processo di digitalizzazione. Tutte le video interviste registrate oggi in occasione del convegno organizzato dall'Ordine degli Ingegneri della provincia di Torino in collaborazione con Edilclima saranno disponibili sul canale YouTube Edilclima Software.